una musata con il casetto 1.9 lo puoi mettere dopo su un coso? sul mato? su... giaverissima? su youtube si però? si che macchine che ci sono Massimo? c'è un Aston Martin che farà 500 mila euro non ti giri sotto? eh? non ti giri sotto? penso due o tre, non so ma farà male questo ecco Giunchi, quello è Giunchi ecco bueno, davanti è ecco 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 senza frutta e 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